Ho due domande da fare, una più personale, invece una poi su quello che sta accadendo. Quella più personale riguarda la sua esperienza lì a Milano, no? Perché noi ci conosciamo da tanto tempo con Bertolaso, io l'ho visto fare veramente delle cose molto difficili nella vita, francamente. Mi ricordo uno tsunami in cui lui, insomma, per dire che è una persona che conosco bene, l'ho visto sul campo. Eppure lei ha avuto un momento di grande scoramento in Lombardia, no? Anche perché si sentiva molto solo, faceva fatica, era soltanto consulente. Cioè, come l'ha vissuta questa esperienza? Anche un po' personalmente. Tant'è vero che ha fatto quel post su Facebook dicendo, insomma, cerco di fare il mio lavoro fino alla fine, ma ho bisogno di tornare un po' a casa mia. Sono stravolto. Cioè, mi spiega un po' questo elemento? Beh, è stato sicuramente molto difficile. Io sono stato, quando ero capo della protezione civile, anche accusato di avere troppo potere, di avere una squadra formidabile, di essere pieno di guattrini. E quindi era facile riuscire a realizzare gli obiettivi che mi ponevo oppure che mi venivano chiesti dal governo. Poi è successo che sono diventato un pensionato, un semplice volontario, ma l'anno scorso qui ho costruito un ospedale di 150 posti letto e di animazione. Apro e chiudo parentesi, purtroppo ce ne sono ancora 55 ricoverati nel famoso Bertolaso Hospital, tanto criticato e tanto vituperato. E l'ho fatto da privato cittadino. Poi sono andato anche nelle Marche, a Civita Nova Marche. Me lo ricordo. Ho realizzato la sorella più piccola di questa struttura che ho fatto qua a Milano. E poi mi sono ritrovato in mezzo a questa situazione di vaccinare 10 milioni di Lombardi. In effetti lei ha ragione. Praticamente da solo ho dovuto mettere insieme una squadra che adesso forse vedete dall'altra parte del vetro. Noi chiamiamo l'Acquario. È la cabina di regia dove ci sono vari funzionari, dirigenti delle varie assessorate, sanità, protezione civile. Ci sono i farmacisti, ci sono quelli che si occupano di logistica. È una squadra che però ho creato io di fatto incontrando giorno per giorno... Però scusi, io non voglio fare la consulente esistenziale di Parchibuto Bertolaso. Però mi dicono... No, ma...